Quello che dicevano, sì certo, sollecitate la comunità internazionale perché abbiamo bisogno di più viveri, più medicine, ma anche di internet. Internet come bisogno primario per questi giovani. Ecco, e non parlavano certo di videogiochi, quei giovani rifugiati, ma di internet come straordinaria opportunità di formazione e di crescita. E poi un'altra cosa vorrei dirvi, sempre basandola sulla mia esperienza precedente. Internet per tanti migranti oggi è l'unico strumento forse per rendere meno penosa la loro distanza, la loro distanza dalle famiglie, dal paese di origine. Anche questo internet fa, cioè consente alle persone di rimanere in contatto con quello che lasciano, di seguire gli sviluppi dei paesi di origine. Le tante donne che vivono nelle nostre case, come fanno oggi a sapere che cosa succede alle loro famiglie? Spesso usano Skype. Spesso usano Skype.